Fratelli e sorelle nel Signore oggi volevo appunto parlarvi, volevo darvi questa esortazione siate soggetti per amore del Signore, siate soggetti perché diciamo tutti i credenti in qualche maniera devono essere soggetti, soggetti a qualcuno, tutti indistintamente ministri, semplici fratelli, quelli che servono, dobbiamo comunque essere tutti, tutti dipendiamo tutti da qualcuno e siamo soggetti a qualcuno per amore del Signore perché? Perché è vero che nel Signore siamo soggetti a qualcuno però c'è una condizione sempre ferma e fondamentale che è quella che dobbiamo essere soggetti a qualcuno ma nell'amore del Signore, cioè secondo la verità della parola di Dio, secondo la volontà di Dio secondo i comandamenti di Dio, cioè non è che siccome uno si trova in una posizione che la Bibbia dice di sottomissione, è soggetta ad un altro, questo può dare tutte le disposizioni che vuole l'altro deve obbedire, non è così, si deve obbedire nel Signore quindi l'obbedienza deve avvenire sempre tra i due binari che sono nel Signore i binari che chiudono la possibilità di non uscire dal seminato che è il campo del Signore e questo è importante prima di tutto, la cosa più importante di tutto è questa leggiamo in Giacomo in Giacomo leggiamo che tutti dobbiamo essere soggetti prima di tutto a Dio Giacomo 4 dal versetto 6 Vedete, il Dio ha dei comandamenti, il Signore ha una sua volontà come anche il diavolo ha una sua volontà quindi se noi seguiamo la volontà di Dio, se noi ci sottomettiamo e obbediamo ai comandamenti di Dio ci stiamo sottomettendo a Dio e questo è quello che vuole il Signore ma se noi disubbidiamo ai comandamenti di Dio ci insuperbiamo, ci crediamo di essere qualcosa di superiore a Dio e ai comandamenti di Dio e ci mettiamo invece a seguire la carne, a seguire il contrario di quello che piace al Signore e allora noi stiamo servendo il diavolo, non più il Signore quindi ci stiamo sottomettendo e stiamo diventando schiavi del maligno se serviamo appunto la volontà del maligno, le cose che piacciono al maligno che poi al maligno piacciono tutte quelle cose che sono contrarie alla volontà di Dio che sono contrarie ai comandamenti di Dio quindi basta che siamo fuori dai comandamenti di Dio già siamo nel campo, nell'obbedienza a Satana per farvi un esempio di cosa vuol dire che non è necessario allontanarsi molto per fare la volontà del diavolo infatti Pietro, quando Gesù annunziò che doveva morire come era scritto di lui, che il Cristo doveva morire doveva soffrire molte cose dai capi dei giudei e poi morire e il terzo giorno risuscitare Pietro disse no, non ti accadrà mai cioè non voleva, ma lo fece con un senso come dire io non voglio che tu muoia, io non voglio che ti accada nessun male eppure Pietro avendo contrastato la volontà di Dio in quelle parole che Gesù disse Gesù disse va lontano da me Satana quindi in quel momento non era più sotto la volontà di Dio ma aveva parlato contro la volontà di Dio e quindi ha detto delle parole che andavano a favore del diavolo a favore di Satana quindi vedete non è che bisogna per forza essere per fare la volontà del diavolo non è che bisogna essere molto approfonditi nel peccato, nella falsità e nella conoscenza delle cose del male talvolta basta anche una piccola cosa tutto quello che non è secondo la volontà di Dio resisti a Dio, non al diavolo invece qui Giacomo dice a chi dobbiamo resistere? noi dobbiamo resistere al diavolo, a tutte le sue tentazioni a tutto quello che lui ci mette davanti per farci inciampare per farci cadere per farci disubbidire soprattutto alla parola dell'iddio vivente alla volontà di Dio noi al diavolo dobbiamo resistere perché dobbiamo resistergli? perché lui ci attacca continuamente, capite? perché c'è questa esortazione a resistere? perché c'è sicuramente una battaglia in atto il maligno ci attacca continuamente soprattutto nei momenti in cui soprattutto nei momenti in cui siamo più deboli ecco che il maligno ci attacca per farci cadere per riuscire talvolta anche a non farci più rialzare egli continua di continuo cerca di danneggiare la nostra buona reputazione di danneggiare la nostra evangelizzazione di fare attorno a noi terra bruciata in maniera che la nostra parola non sia più credibile il maligno è continuamente all'opera contro di noi contro coloro soprattutto che fanno la volontà di Dio quelli che vogliono fare la volontà di Dio è chiaro che non siamo perfetti qui non si sta parlando di perfezione ma di crescita verso la perfezione quindi tutti noi sbagliamo in molte cose però il fatto che tutti noi sbagliamo in molte cose non toglie che ci dobbiamo esortare gli uni gli altri a fare il bene e a contrastare tutte quelle attività che il maligno fa contro la Chiesa contro ogni singolo credente contro ognuno di noi contro ognuno di quelli che ha detto io voglio servire il Signore hai detto io voglio servire il Signore e allora devi resistere al diavolo perché il diavolo ti manda contro il suo esercito e quindi tu gli devi resistere ti devi attrezzare a resistere al maligno se c'è bisogno di più preghiera di più studio della parola ti devi attrezzare per resistere al maligno in base agli attacchi che lui ti lancerà perché te li lancerà sappiatelo questo quindi bisogna stare prima di tutto sottomessi a Dio sottomessi ai Suoi comandamenti sottomessi alla Sua parola perché vedete osservare i comandamenti i comandamenti di Dio non sono alla fine gravosi perché non sono gravosi ma perché il Signore poi ci aiuta a portarne i pesi quindi se noi decidiamo di non dare sfogo alla carne alle concupiscenze carnali non andando al mare magari all'inizio si può anche soffrire ma poi il Signore ci toglie questo desiderio questa voglia di andare a me me l'ha tolto tanto tempo fa ormai anche se all'inizio uno dice ah volevo andare però poi te lo toglie te lo toglie vedete quindi un peso sì ma il Signore ti ha aiutato ti ha aiutato poi a portarlo il suo carico è diventato leggero perché il Signore ci aiuta a portarlo quindi è conveniente per noi resistere al diavolo ma diciamo sottomettersi a Dio perché badate bene se uno invece di resistere al diavolo resiste al Signore perché vedete alcuni cercano tante giustificazioni pure c'è anche questo da dire cioè nella scrittura ci sono scritte delle cose e quelle sono se si cercano delle giustificazioni si sta resistendo non al diavolo ma a Dio cioè da una parte vogliamo fare la volontà di Dio dall'altra poi quando ci troviamo in pratica a dover osservare determinati comandamenti ecco che resistiamo cominciamo a trovare giustificazioni cominciamo a trovare delle resistenze ah ma nell'antichità come si vestivano cosa facevano andavano al mare non andavano al mare cominciamo a cercare giustificazioni e questo cos'è? tradotto biblicamente stai resistendo a Dio non al diavolo è al diavolo che devi resistere fratello sorella è al diavolo non devi resistere ai comandamenti di Dio ma devi resistere alle tentazioni del diavolo se no qua si stanno invertendo le cose si invertono poi alla fine le cose quindi questo è la prima cosa la prima cosa stare sottomessi a Dio e resistere al diavolo quindi siamo questo già ci fa capire che siamo in guerra non siamo in vacanza abbiamo degli incarichi gravosi ognuno di noi avrà la sua battaglia le sue tentazioni le sue resistenze le sue cadute perché è normale che abbiamo tutti delle cadute allora fratello rialzati e vai al Signore perché egli è un iddio misericordioso è l'iddio misericordioso unico iddio ed è misericordioso e pietoso lento all'ira però non tiene l'innocente per colpevole così come non tiene il colpevole per innocente questo questo è il nostro Dio santo buono misericordioso ma giusto tutte le tutte le caratteristiche di Dio ricordatevi sono messe dentro un contenitore che si chiama giustizia di Dio quindi la misericordia di Dio non annulla la sua giustizia capite quindi tutti i caratteri di Dio poi vanno visti alla luce anche degli altri caratteri ogni singolo carattere insieme va visto insieme agli altri quindi uno non può cancellare gli altri e questa era la sottomissione a Dio è la prima cosa per un credente adesso voglio parlarvi di un'altra sottomissione che è la sottomissione che tutti i credenti devono avere nei confronti delle autorità che sono costituite da Dio e noi leggiamo prendiamo in Romani in Romani capitolo 13 Romani 13 1 leggiamo ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori perché non vi è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono ordinate da Dio tal che chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone ma alle cattive vuoi tu non avere paura dell'autorità fa quel che è bene e avrai lode da essa perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene ma se fai quel che è male temi perché egli non porta la spada in vano poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione ma anche per motivo di coscienza poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a quest'ufficio rendete a tutti quel che dovete loro il tributo a chi dovete il tributo la gabella a chi la gabella il timore a chi il timore l'onore a chi l'onore quindi vedete fratelli qui è importante è importante sottomettersi anche all'autorità perché qui dice l'Apostolo Paolo ai Romani dice che l'autorità è costituita da Dio e queste autorità sono costituite per mantenere un determinato ordine se non ci fosse un'autorità e ci fosse l'anarchia totale un disordine generale anche noi credenti ne avremmo male anzi noi sicuramente avremmo la peggio non potendo difenderci e combattere con la spada col fucile con la pistola col coltello non potendo reagire al malvagio ecco quindi che noi troveremo la peggio avremo sicuramente la peggio invece qui l'Apostolo Paolo cosa fa sapere ai Romani e quindi anche a noi a tutti noi a tutti i gentili fa sapere che ogni autorità è costituita da Dio quindi bisogna sottomettersi agli ordini dell'autorità poi vediamo ci sono delle eccezioni è chiaro è chiaro che non ha tutto perché come dice come siamo partiti nel titolo dobbiamo essere soggetti per amore del Signore nelle cose del Signore come si conviene al Signore quindi prima di tutto soggetti a Dio ai Suoi comandamenti ora se le autorità anche se costituite da Dio ci danno degli ordini da disubbidire per disubbidire ai comandamenti di Dio per dire se l'autorità dovesse fare un decreto che dice voi non potete più pregare Dio cioè è chiaro che noi dobbiamo disubbidire oppure non vi potete più riunire non potete più evangelizzare nel nome di Gesù Cristo noi dobbiamo disubbidire ma questo è il caso il caso in cui si deve disubbidire ma in tutti gli altri casi in tutti gli altri decreti negli ordini di come si guida la macchina tutte le regole che ci sono per la guida della macchina la tenuta delle case il lavoro il pagamento dei tributi tutto quello che è stato organizzato è stato disciplinato dall'autorità con determinate leggi quelle il credente è chiamato ad osservarle tutte quante perché perché se uno si oppone all'autorità che è stata costituita da Dio si oppone non tanto all'autorità in se stessa ma si sta opponendo a Dio talvolta no? talvolta ci sono dei regimi ma anche i dittatori e i regimi che perseguitano la chiesa anche quelli sono messi da Dio ma perché sono messi quelli? sono messi quelli sono stati messi quelli per un motivo talvolta può essere il fatto che sono stati messi i dittatori e i regimi per mettere alla prova la chiesa dell'iddio vivente oggi la chiesa viene messa alla prova in determinate maniere in altri momenti la chiesa viene messa alla prova in altri modi ad esempio con la persecuzione oggi non abbiamo una vera persecuzione fisica però abbiamo degli attacchi continui affinché chi vuole chi vuole i privilegi di questo mondo deve lasciare la verità capite? noi oggi stiamo subendo deve abbandonare la verità se si vuole rimanere attaccati alla gloria degli uomini all'autorità allo stato capite? quindi oggi abbiamo attualmente che può cambiare dopo però attualmente la situazione è questa siamo attaccati in questa maniera ma poi può venire anche una persecuzione come nel passato o come in altri paesi ci sono le persecuzioni dei cristiani quindi il cristiano si deve il credente si deve sottomettere a tutte le autorità costituite da Dio perché questa è la volontà di Dio è questo che piace al Signore perché le autorità fondamentalmente con qualche corruzione è chiaro perché essendo il mondo giace nel maligno però fondamentalmente avviene questo cioè che i magistrati le autorità sono messe lì per punire i malvagi quelli che compiono le opere malvagie per la maggior parte avviene in questa in questa maniera noi credenti dobbiamo sottometterci alle autorità non dobbiamo compiere azioni malvagie che diciamo disubbidiscono agli ordini delle autorità tranne in caso in cui tranne il caso in cui proprio l'autorità entra nel campo spirituale e ci dice voi non dovete più adorare il Dio voi non dovete più pregare il Dio non dovete più rendergli un culto ecco allora non dovete più annunziare l'Evangelo di Cristo ecco allora noi in quel caso disubbidiamo però è un caso specifico se l'autorità ci dice vieni prendi la pistola ammazza questo delinquente anche lì disubbidiamo perché non possiamo obbedire all'autorità oppure l'autorità ti chiama ti dà un fucile in mano e ti dice vai in guerra ammazza il nemico bianco giallo rosso quello che sia non importa tu non puoi obbedire e andare in giro a uccidere capito non puoi ecco in certi casi il cristiano ecco che disubbidisce disubbidisce perché è preferibile ubbidire a Dio che agli uomini quindi qui abbiamo visto che Paolo fa sapere che l'autorità sono costituita da Dio che danno lode a chi fa il bene fondamentalmente genericamente è chiaro che poi dopo bisogna vedere caso per caso e diciamo danno quello che si meritano a coloro che invece fanno il male perché il magistrato se fai quel che è male temi perché egli non porta la spada in vano cioè quella spada dell'autorità la spada per punire l'autorità non la porta in vano non la porta in vano perché perché gli è stata data da Dio e la porta per un motivo ben preciso perché il Signore ha il controllo di ogni cosa cioè non è che c'è qualcosa che gli sfugge anche quando c'è un'ingiustizia anche quando c'è una sofferenza anche quando c'è una persecuzione il Signore ha il controllo di ogni cosa e le cose avvengono per un motivo ben preciso per metterti magari alla prova per mettere alla prova la tua fede la tua pazienza la tua sopportazione se tu riesci a resistere a tutte queste cose quindi c'è sempre un motivo quindi è necessario stare soggetti alle autorità non solo per il timore della punizione però attenzione cioè noi il cristiano non deve essere soggetto all'autorità solo perché ha paura di essere punito dalla stessa autorità no deve essere deve essere soggetto come se lo facesse per il Signore sapendo che l'autorità è stata costituita da Dio e Dio ha voluto che uscissero quelle regole uscirà ad esempio a breve usciranno delle regole che riguarderanno il matrimonio omosessuale le unioni civili quello che sarà sarà è chiaro che noi quelle non lo riconosciamo perché quello va palesemente contro la volontà di Dio cioè queste noi non li riconosciamo le cose che vanno contro chiaramente la parola di Dio ma tutte le disciplina tutto quello che l'autorità disciplina che non va contro non va direttamente contro la parola di Dio a quello invece ci dobbiamo sottoporre ci dobbiamo essere assoggettati ma non perché abbiamo assoggettarsi per una paura della punizione dell'autorità bisogna assoggettarsi come come se lo facessimo al Signore come se questa autorità appunto fosse il Signore facciamo le cose per il Signore e questo è lo stato d'animo per una questione di coscienza per avere una buona coscienza davanti a Dio è per questo che noi dobbiamo assoggettarci all'autorità ed è appunto siccome queste autorità sono costituite da Dio il Dio ha anche stabilito che naturalmente tutte le persone paghino dei tributi delle tasse tributi e tassi poi uno si può lamentare e dire si può lamentare nel senso generico tutti possono lamentarsi non il cristiano ma tutti possono lamentarsi e dire ma le tasse sono tante quindi un po' le devo evadere ecco non vale così per il cristiano noi le tasse e i tributi e le gabelle e l'iva e l'irpef è quello che Dio ha stabilito che noi paghiamo e le paghiamo perché le paghiamo perché dobbiamo sostenere tutto un apparato pubblico che poi rubano e vabbè renderanno conto a Dio però le tasse in se stesse hanno una funzione utile anche per il cristiano perché la funzione è quella di far vivere questi magistrati queste forze di polizia queste autorità che poi mantengono l'ordine e mantengono la giustizia nel magistrato che mantiene la giustizia c'è che fa applicare la giustizia in questa nazione noi parliamo di questa nazione ma vale per tutte le nazioni il discorso quindi è giusto anche il pagare le imposte le tasse i tributi quello che ci è dato per sostenere appunto questi magistrati che mantengono l'ordine anziché criticarle le autorità perché a volte si sentono molti criticare le autorità non difenderle ma sono criticate allora qui Paolo dice a Timoteo cosa bisogna fare per le autorità non criticarle ma bensì ma bensì dice dice questo prima Timoteo capitolo 2 al versetto 1 prima Timoteo 2 1 io esorto dunque prima d'ogni altra cosa che si facciano supplicazioni preghiere intercessioni ringraziamenti per tutti gli uomini per il re e per tutti quelli che sono in autorità affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà vedete quindi il cristiano verso l'autorità è chiamato a obbedire a tutte le regole che ha stabilito a pagare le tasse e a pregare per le autorità perché qui Paolo dice che noi per le autorità costituite da Dio dobbiamo pregare per quale motivo dobbiamo pregare certo chiederemo anche che il Signore abbia pietà di loro che li salvi questo lo possiamo chiedere tranquillamente ma qui Paolo dice a Timoteo che bisogna pregare per loro affinché vedete il fine che ci dobbiamo proporre pregando per le autorità non criticarle ma pregare per loro affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà quindi affinché le autorità tutte le forze di polizia le autorità e i magistrati svolgano le loro indagini e facciano il loro dovere nella maniera più giusta possibile quindi questo noi lo dobbiamo domandare con dirittura e rettitudine quindi applichino la giustizia con dirittura e rettitudine e ci facciano condurre una vita tranquilla e pacifica non invaso dai ladri dagli assassini dai teppisti che non si può più uscire fuori di casa capite cioè se noi possiamo uscire fuori di casa e farci una passeggiata lo possiamo fare perché ci sono le forze di polizia e ci sono i magistrati c'è una certa legge quindi non è che noi dobbiamo guardare solo le leggi tributarie quelle che ci impongono di pagare molte tasse che noi ci lamentiamo perché paghiamo molte tasse dobbiamo guardare tutte le leggi che sono state emanate per mantenere una certa tranquillità di vita in tutta la nazione quindi noi credenti siamo dunque chiamati non a criticare l'autorità ma bensì a pregare per l'autorità quindi ricordatevi questo che noi credenti dobbiamo dare l'esempio anche sia nell'osservare le regole dell'autorità fino a dove non fino a dove ci è permesso cioè fino a dove non contrasta con la volontà di Dio non dobbiamo criticarli e dobbiamo anzi pregare per loro voi immaginatevi questo noi anche pubblicamente questo lo dico perché è giusto che deve essere detto ed è giusto che poi sia fatto qualora ci troviamo nella situazione di doverlo di fare anche pubblicamente è giusto è corretto pregare per le autorità perché nel momento in cui quando avremo i nostri gruppi di preghiera gruppi di fratelli che noi frequenteremo se manderanno delle spie il governo manderà delle spie a spiarci per vedere che tipo di culto facciamo noi devono sentire che noi preghiamo per il loro bene in modo dettagliato e preciso capite quindi questa preghiera spazza via spazza via molti cattivi pensieri in coloro che vogliono pensare che magari siamo una setta che non vuole obbedire a nessuna regola umana non è vero non è vero noi siamo chiamati a disubbidire solamente nel momento in cui le regole umane vanno contro i comandamenti di Dio questo è il limite è il limite infatti prendiamo un esempio adesso adesso prendiamo un esempio in atti degli apostoli gli fu dato agli apostoli pietre Giovanni fu siccome annunziarono l'Evangelo nel nome di Gesù ci fu mi sembra il sì lo zoppo fu guarito nel tempio insomma creò molto scalpore allora incarcerarono pietre Giovanni perché la cosa fece molto scalpore alla fine leggiamo al versetto dal versetto 4 capitolo 4 di atti al versetto 17 ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo divietiamo loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome cioè ai giudei ai capi dei giudei dava fastidio che gli apostoli dicevano che le guarigioni erano compiute nel nome di Gesù Cristo quel Gesù che avevano loro crocifisso quindi gli dava ancora più fastidio adesso che era morto e quindi gli apostoli compivano guarigioni e liberazioni nel nome di Gesù Cristo non per la loro autorità ma per l'autorità che veniva da Cristo per il nome di Cristo e avendoli quindi versetto 18 e avendoli chiamati ingiunsero vedete ingiunsero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù vedete diedero l'ordine a Pietro e Giovanni di non parlare più nel nome di Gesù voi non dovete parlare più nel nome di Gesù e poi Pietro e Giovanni risposero risposero questo ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero dissero loro giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite ed essi minacciattili di nuovo li lasciarono andare non trovando nulla da poterli castigare per cagion del popolo perché tutti glorificavano il Dio per quel che era stato fatto poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni quindi insomma sicuramente era malato da tanti anni era sempre lì alla porta bella del tempio tutti ormai credo che lo conoscessero quando l'hanno visto guarito si saranno domandati ma perché è guarito chi l'ha guarito Gesù Cristo l'hanno guarito nel nome di Gesù Cristo ed era questo che dava fastidio ai capi dei giudei ai capi del 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 tempio lì e infatti vietarono ingiunsero gli apostoli Pietro e Giovanni di non parlare più in quel nome il nome di Gesù era un nome del quale non si doveva parlare ma Pietro e Giovanni già gli dissero in faccia che non avrebbero potuto obbedire a quell'ordine dell'autorità perché dovevano obbedire a Dio anziché agli uomini era questa la cosa importante loro erano chiamati da Dio ad annunziare l'Evangelo nel nome di Gesù Cristo non potevano evitare di annunziare l'Evangelo nel nome di Gesù e quindi vedete il limite il limite che noi abbiamo che i credenti hanno che i credenti hanno per annunziare per per obbedire ai comandamenti di Dio è appunto quello di quando questi questi quando i comandamenti quando le regole umane contrastano con i comandamenti di Dio ecco che siamo chiamati piuttosto a obbedire a Dio anziché agli uomini questo è il limite posto i comandamenti di Dio fanno il limite alla nostra alla diciamo alle cose a cui dobbiamo essere soggetti che vengono emanate dalle autorità ma ancora leggiamo un altro passaggio andiamo in Pietro adesso sempre sulle autorità e leggiamo anche cosa ha detto Pietro a riguardo delle autorità che è una cosa molto importante molto importante perché perché voi sapete che noi abbiamo molti nemici quindi il nostro obiettivo è sempre quello di non dare adito ai nostri nemici di parlare contro di noi contro Gesù contro l'Evangelo contro la verità e a riguardo della sottomissione dei credenti alle autorità Pietro dice queste parole al 1 Pietro capitolo 2 dal versetto 13 leggiamo siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini al re come al sovrano ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar loro a quelli che fanno il bene e per dar lode scusate per dar lode a quelli che fanno il bene poiché questa è la volontà di Dio che facendo il bene turiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti come liberi ma non usando già della libertà qual manto che copra la malizia ma come serve di Dio onorate tutti amate la fratellanza temete il Dio rendete onore al re vedete dunque che anche Pietro esorta i credenti a cui è stata indirizzata questa epistola e gli esorta a sottomettersi alle autorità a essere soggetti per amore del Signore quindi essere soggetti a delle autorità umane però bisogna farlo per amore del Signore non per paura della punizione di quella autorità per questioni di coscienza della coscienza che quello che Dio ci fa sentire e questo assoggettarsi stare sottomessi alle autorità cosa produce? produce un effetto molto molto importante cioè che i nostri nemici poi non hanno di che dire contro di noi non hanno di che dire contro Cristo e contro la dottrina di Dio capite? perché in questa maniera noi assoggettandoci a tutti i comandi agli ordini delle autorità pregando per loro non facciamo altro che turare la bocca cioè chiudiamo la bocca a tutti i nemici della verità cioè non non devono trovare nulla da dire contro di noi devono inventarsi delle calunnie devono diffamarci devono dire delle cose che non sono vere contro i credenti ma quello che non possono non devono fare è dire delle cose che sono vere perché se noi rubiamo e ci mettono in galera non possiamo dire che siamo perseguitati a cagione di Cristo se noi rubiamo e ci puniscono ma non è a cagione di Cristo che noi stiamo soffrendo noi lì stiamo soffrendo per il latrocinio che abbiamo che abbiamo fatto capite? cioè se uno ruba allo Stato e poi viene punito quel cristiano lì che viene punito non può gridare che è stato perseguitato a cagione di Cristo perché non c'entra niente ecco semmai noi dobbiamo soffrire perché l'autorità ci incarcera perché stiamo annunziando l'Evangelo perché diciamo ci hanno calunniati perché ci hanno diffamati perché ci hanno accusati di qualcosa che non è vero però poi sentiranno i testimoni e dopo la verità a Dio piacendo può sempre uscire fuori e quindi la bocca dei nostri nemici sarà atturata bisogna atturare e vincere il male con il bene cioè il credente è chiamato a vincere il male facendo il bene non possiamo ricambiare male per male e anticipando questo male dobbiamo dobbiamo appunto fare del bene anche alle autorità pagare quello che dobbiamo pagare pregare per loro e assoggettarci a tutti i loro comandamenti che non contrastano la volontà di Dio perché nel momento in cui contrastano la volontà di Dio allora no non dobbiamo più in quel caso obbedire a quel tipo di comando non è che basta una cosa e non osserviamo più niente non paghiamo più le tasse no a quella cosa se il divieto è di non annunziare l'Evangelo non è che smetto di pagare le tasse capite? cioè se l'ordine è di non annunziare più l'Evangelo io continuo ad annunziarlo però pago anche le tasse quindi quello che non è giusto non dobbiamo osservare solo le cose che non sono giuste dal punto di vista dal punto di vista biblico della della verità di Dio e questo è la sottomissione di tutti noi alle autorità vedete quindi tutti devono stare assoggettati alle autorità adesso veniamo ad un'altra cosa ad un'altra cosa alle mogli le mogli devono essere soggette ai loro mariti che è scritto anche questo anche le mogli anche le mogli devono essere soggette ai mariti quindi qui dovete prendere per leggere questi passaggi dovete prendere capitolo 5 di Efesini e capitolo 3 di Colossesi 3 18 Colossesi capitolo 5 di Efesini versetto dal versetto 22 adesso vedremo alcune cose seguendo questi passaggi vedremo alcune cose le mogli che devono essere soggette ai loro mariti poi vedremo che i figli devono essere soggetti ai genitori vedremo anche che i servi devono essere soggetti ai loro padroni queste sono tutte cose pratiche sono tutte cose che sono devono essere pratiche cioè devono essere messe in pratica dai credenti dagli uomini e dalle donne da chi si trova in una determinata situazione che vede che la si vede dalle dalle scritture se io sono se io ho un padrone la scrittura mi dice che mi devo assoggettare al mio padrone qui nella Bibbia è scritto padrone ma oggi lo potremmo dire il datore di lavoro quello che ti dà gli ordini nel lavoro il capocantiere capite cioè va visto in questa maniera qui lo chiama nella biblicamente lo chiama genericamente padrone però poi va visto in questa maniera comunque cominciamo dalle mogli che devono essere soggette ai loro mariti 522 di Efesì mogli siate soggette ai vostri mariti come al Signore poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa egli che è il salvatore del corpo ma come la Chiesa è soggetta a Cristo così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa quindi vedete la scrittura anche in Colossesi ripete abbiamo detto 318 in Colossesi dice mogli siate soggetti ai vostri mariti come si conviene nel Signore mariti amate le vostre mogli e non vi nasprite contro a loro quindi le mogli devono stare soggette ai loro mariti devono obbedire in ogni cosa qui il limite anche qui ci sono dei limiti i limiti dove li troviamo qui in Colossesi abbiamo letto che come la sottomissione riguarda come si conviene nel Signore cioè se il marito ti ordina di andare alla moglie di andare a fare la prostituta di andare a rubare di andare a uccidere di andare a fare il male ecco lì bisogna disubbedire non bisogna stare soggette le donne le mogli non devono stare soggette in questo caso ai mariti capite ma in tutte le altre cose che comunque non contrastano le cose che sono scritte nella parola di Dio che non contrastano la volontà di Dio ecco le mogli hanno come obbligo come obbligo biblico perché così Dio ha stabilito di essere assoggettate ai loro mariti così è scritto qui non si tratta né di maschilismo né di diversità di ritenere che la donna è inferiore qui non si tratta di niente qui si sta parlando dei comandamenti di Dio Dio ha fatto l'uomo e ha fatto la donna prima ha fatto l'uomo e dall'uomo è derivata la donna e Dio ha stabilito quest'ordine ha stabilito che la donna fosse un ausilio un ausilio per il marito e così è stabilito però per quanto riguarda la salvezza per quanto riguarda la salvezza lì non c'è né uomo né donna né greco né gentile né schiavo né libero capite per quanto riguarda la salvezza l'uomo e la donna sono uguali spiccicati cioè non c'è differenza per quanto riguarda la salvezza l'ottenimento della salvezza nella stessa maniera con cui la salvezza la ottiene l'uomo così pure la ottiene la donna non ci sono differenze però nel vivere in questa terra nel servizio nella chiesa nella posizione che ognuno deve avere nella famiglia ecco che ci sono delle differenze e Dio ha stabilito un ordine ben preciso ha stabilito che le donne che le mogli devono essere soggette ai loro mariti ha stabilito che la donna non può insegnare non può usare autorità sull'uomo non può usare autorità sul marito non deve farlo se anche se il marito diciamo non è convertito vedendo che la moglie lo ama lo tratta bene tutto quanto può conquistare in questa maniera il marito anche senza parlare capite anche senza tante parole la moglie con la sua buona condotta può conquistarla la salvezza e guardate bene questa è un'opera buona fatta davanti a Dio anche se il marito ti fa soffrire anche se anche se il marito non convertito è cattivo fa quello che fa insomma però tu quello che stai facendo tu moglie quello che stai facendo è come se lo stai facendo per Cristo infatti la moglie qui Paolo l'ha equiparata alla chiesa la chiesa sposa di Cristo quindi la chiesa si deve santificare la chiesa deve fare del bene per Cristo quindi quello che stai facendo per tuo marito lo stai facendo per Cristo è come se tu lo stessi facendo per Gesù Cristo e questo il Dio te ne darà conto te ne darà conto te lo metterà in conto di giustizia sarà un'opera buona che tu avrai fatto anche se costa attenzione lo so che quando non si è in pieno accordo quando il marito non è credente i dolori sono tanti proprio interiormente interiormente l'opposizione uno si sente di opporsi però tu ti stai opponendo sempre all'autorità che Dio ha costituito su di te cioè se il marito ti dice di fare una cosa che comunque non contrasta con la parola di Dio ma tu qual è il tuo problema falla no te l'ha detta in questa maniera falla così non ti preoccupare c'hai meno 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 disastri meno litigi meno discussioni se si può fare biblicamente a meno che non sia proprio palesemente errata però deve essere proprio chiaramente manifestamente sbagliata quella cosa anche se se ti dice che ne so vai a tagliare quei rami di quell'albero perché e tu sai che quell'albero se gli tagli quei rami muore è chiaro che allora dice no guarda marito mio ma ascolta non tagliamo quei rami perché l'albero muore sto facendo adesso un esempio così poi in ogni caso ci sarà dopo come si dice il dio darà sapienza per ogni caso per affrontare ogni caso specifico e diverso che può essere diverso da una moglie all'altra quindi le mogli devono stare soggette ai mariti ma i mariti non è che devono cantare troppo vittoria cioè i mariti non è che devono sorridere perché ci sono degli obblighi anche per i mariti adesso noi stiamo parlando di chi è soggetto abbiamo parlato in modo particolare della donna che deve essere soggetta al marito ma l'uomo è chiamato il marito è chiamato a dare tutto se stesso per la moglie la deve trattare trattare bene il marito la moglie non è che la può maltrattare come gli pare a lui assolutamente come Cristo ha trattato la chiesa cioè morendo Cristo per la chiesa così l'uomo deve dare tutto se stesso per la moglie per la chiesa come Cristo ha dato se stesso per la chiesa quindi da una parte è vero che la moglie deve essere sottomessa al marito ma è anche vero che il marito deve dare tutto se stesso per la moglie e quindi io non so quale dei due anche la propria vita quindi non so quale dei due sia più gravoso però sono tutte e due delle responsabilità davanti a Dio stabilite che stabilite che bisogna fare come scritto per le donne valgono delle cose per gli uomini valgono altre quindi gli uomini hanno le loro incombenze ma andando avanti andiamo avanti quindi abbiamo visto abbiamo visto che le mogli devono stare soggette ai loro mariti ma ora veniamo anche andando avanti sempre in effesini andando avanti con i passi al capitolo 6 di effesini al capitolo 6 versetto 1 si parla dei figli perché anche i figli hanno qualcuno sopra di loro cioè non è che i figli devono possono fare ciò che gli pare a loro cioè i figli devono stare soggetti ai loro genitori questo è comandato e guardate che tipo di comandamento anche figlioli ubbidite nel Signore ai vostri genitori poiché ciò è giusto onora tuo padre e tua madre e questo il primo comandamento compromessa affinché ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla terra quindi vedete i figli sono chiamati a essere soggetti ai loro genitori guardate bene però qui dice nel Signore sono importanti queste parole perché se un genitore dice al figlio vai e rubami questo vai e fai quest'altro che non è da Dio è una cosa palesemente contraria alla volontà di Dio neanche i figli devono obbedire ai loro genitori se la cosa è palesemente contraria alla volontà di Dio però per tutto il resto i figli sono chiamati ad obbedire in ogni cosa ai genitori perché ciò è giusto davanti a Dio è una cosa giusta che Dio ha stabilito in questa maniera e badate bene per i figli c'è questo comandamento uno dei comandamenti del decalogo una delle dieci parole riguarda proprio i figli che dice onora tuo padre e tua madre e questo il primo comandamento compromessa perché perché a questo comandamento a questo comandamento segue anche quello che è la conseguenza di questo comandamento capite cioè questo comandamento ha in sé anche le conseguenze che si avranno se si disubbidisce e se si ubbidisce se si ubbidisce il comandamento di essere assoggettati di assoggettarsi al proprio ai propri genitori dice affinché ti sia bene tu abbia lunga vita sulla terra quindi affinché uno viva una vita tranquilla e pacifica sulla terra e anche la viva lungamente questo cosa vuol dire vuol dire che se un figlio maltratta maltratta i genitori non ne avrà bene su questa vita passerà una vita piena di tribolazioni piena di prove di difficoltà di angoscia e in più alla fine andrà a finire che non avrà neanche una lunga vita su questa terra avrà una vita breve perché avrà maltrattato i suoi genitori vedete dunque com'è importante anche questo passaggio dei figli che devono saperlo ora per i genitori questo è importante saperlo anche per i genitori però però è importante diciamo anche trasmetterlo ai figli affinché lo sappiano per il loro bene non perché noi siamo genitori ma per il loro bene affinché ne abbiano bene tutta la loro vita e affinché loro abbiano anche una lunga vita su questa terra quindi per il loro bene i genitori sono chiamati anche a trasmettere questo insegnamento ai loro figlioli ma dall'altra parte attenzione per equilibrio il signore andando avanti ha anche lasciato scritto qualcosa per i padri doveri dei padri verso i figlioli eh perché non è che i pesi ci sono solo da una parte i pesi ci sono sempre da tutte le parti da entrambe le parti e voi quindi al versetto 4 di Efesini 6.4 di Efesini e voi padri non provocate ad ira i vostri figlioli ma allevateli in disciplina ed in ammunizione del signore quindi vero è che i figli vanno vanno disciplinati vanno 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 ammaestrati vanno diciamo curati nell'ammunizione del signore vanno fatti crescere nell'ammunizione del signore però è altresì scritto che non li dobbiamo provocare ad ira i genitori non devono provocare ad ira i figli cioè non devono sfruttare la loro posizione di genitore per imporre qualcosa che talvolta è sbagliato purtroppo i genitori chi è genitore lo sa non sempre tutte le cose che abbiamo detto ai nostri figli erano corrette avevano ragione loro talvolta piccoli o grandi che sono e allora davanti a Dio abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato e quindi abbiamo dovuto chiedere perdono a Dio dobbiamo chiedere perdono a Dio quando sbagliamo anche noi genitori in Colossesi questo passaggio è messo in questa maniera 321 di Colossesi padri non irritate i vostri figlioli affinché non si scoraggino queste sono parole sempre che mi hanno sempre tagliato il cuore perché abbiamo tanti problemi tanti sforzi durante la giornata siamo stanchi eppure dobbiamo badare anche a questo tutto quello che facciamo in famiglia non dovremo sbagliare mai purtroppo io sono il primo lo ammetto a non riuscire ad applicare tutto quello che c'è nella parola tra cui anche questo quindi non bisogna far irritare i genitori non devono far irritare i propri figli perché se no si scoraggiano fratelli una persona scoraggiata abbattuta non riesce a fare nulla non riesce a fare nulla quindi piuttosto anche se se i genitori ammoniscono i figli devono sempre tendere a che cosa all'incoraggiamento cioè ammonirlo nell'errore ma poi incoraggiarlo ad andare avanti e continuare che la prossima volta gli riuscirà meglio quindi non scoraggiare spezzare spezzare quella vita quella persona ma bensì incoraggiarla non è semplice non è una cosa semplice ma il genitore deve sapere qual è la sua responsabilità quindi i genitori devono sapere quali sono i suoi diritti quindi i figli devono essere assoggettati ai genitori ma i genitori devono sapere anche quali sono i suoi doveri verso i figli e quindi li devono mettere in pratica non devono fare le cose per scoraggiare il figlio ma anzi i figli ma per incoraggiarli tendere sempre all'incoraggiamento a non bloccare la crescita ma bensì a sollevarla a rialzarli quando cadono non a distruggere e a spezzare capite? questo è importante ed è ancora una volta sono cose più gravose vedete per i genitori che hanno l'autorità in sé che per i figli perché è più difficile fare il genitore che il figlio chi è genitore lo sa chi ancora non lo è lo imparerà dopo ora visto questo passiamo alla sottomissione dei dei servi ai propri padroni e leggiamo in Efesini al capitolo 6 versetto 5 servim ubbidite ai vostri signori secondo la carne con timore e tremore nella semplicità del cuor vostro come a Cristo non servendo all'occhio come per per piacere agli uomini ma come servi di Cristo facendo il volere di Dio d'animo servendo con benevolenza come se serviste il Signore e non gli uomini sapendo che ognuno quando abbia fatto qualche bene ne riceverà la retribuzione dal Signore servo o libero che sia vedete quindi vediamo in Colossesi invece come scritto 3.22 servi ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne non servendoli soltanto quando vi vedono come per piacere agli uomini ma con semplicità di cuore temendo il Signore qualunque cosa facciate operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità quindi vedete vedete che anche coloro che hanno dei padroni secondo la carne che oggi li chiamiamo datori di lavoro sono quelli che ti pagano ti danno le direttive del lavoro e poi ti pagano va bene la maggior parte di noi diciamo che la maggior parte di noi ha un datore di lavoro sopra di sé ci sono i lavoratori autonomi ci sono quelli quelli comunque hanno anche loro degli obblighi non è che non ne hanno per quanto riguarda invece quelli che sono soggetti a un'autorità carnale che gli dà le direttive nel lavoro ecco questi devono stare soggetti come devono lavorare qui la scrittura ci insegna qual è lo stato d'animo che un credente deve avere nel compiere lavoro che gli viene affidato lo deve compiere come se quel lavoro materiale venisse fatto per il signore quindi non deve fare il lavoro soltanto quando ti guarda il padrone poi il padrone oggi non c'è mi siedo e mi riposo tutto il giorno capite e non lavoro no il tuo lavoro lo devi fare come se fosse presente sempre e lo è presente come se sempre presente il signore ti guarda e ti dice quel lavoro che stai facendo lo stai facendo per me fallo bene perché tu lo stai facendo per il signore quel lavoro e questo è lo stato d'animo che deve muovere il credente quando fa un lavoro quando fa qualcosa perché non lo deve fare perché lo vedono cioè non bisogna lavorare bene solo quando ci vedono quando invece non ci guardano lavoriamo male e facciamo dei danni tanto non ci ha visto nessuno e no non ti ha visto l'uomo ma Dio ti ha visto però e questo è peccato davanti a Dio questo è peccato davanti al signore quindi il lavoro che il credente è chiamato a fare lo deve fare con tutte le sue forze facendolo bene come se lo facesse per il signore come se lo facesse per il signore quindi non solo per essere visto dagli uomini vedete i servi chi si trova nella situazione di servo cioè chi obbedisce a degli ordini a degli ordini da parte di un datore di lavoro deve farlo in maniera come se lo facesse per il signore perché questa è la volontà di Dio fratelli e sorelle è questa la volontà di Dio il signore vuole che in pratica si facciano queste cose perché nessuno deve avere nulla da dire contro i cristiani contro la dottrina di Dio nessuno si deve lamentare ma guarda questi pigri cristiani ma guarda questi ventri pigri ma guarda questi che mi imbrogliano quando quando io non li guardo mi imbrogliano alla pari di tutti gli altri trufaldini e il cristiano non è così il cristiano lavora per Cristo in tutto quello che fa lavora per Cristo e in Cristo capite quindi anche i nostri noi io sono il primo ad essere servo ad obbedire a degli ordini e io mi sono sempre sentito in questo in questo stato d'animo cioè io ho lavorato perché devo fare lavoro non voglio né che mi dicano bravo e né che se mi riprendono le cose giuste io mi correggo ma non voglio neanche bravo non mi interessa io lavoro per il Signore Gesù Cristo cerco di fare il mio lavoro più meglio possibile perché come se io il lavoro lo facessi per Cristo Gesù e questo è il mio stato d'animo e questo è lo stato d'animo che deve accompagnare i credenti nel lavorare per qualcuno è chiaro che ci sono i credenti anche diciamo che danno loro lavoro ad altri e loro sono chiamati a pagare tutto quello che compete e a non vessare a non a non maltrattare quelli che lavorano per lui ci sono delle incombenze anche per i datori di lavoro non è che le incombenze ci sono solo per i servi come abbiamo visto finora ci sono incombenze anche per tutti gli altri anche per le autorità le autorità in se stesse che devono applicare la giustizia e non lo fanno come piace al Signore poi pagheranno davanti a Dio il Signore poi gliene chiederà conto non è che le autorità possono emanare tutto ciò che gli pare quando lo fanno contrastando il Dio poi ne avranno ne avranno la giusta ricompensa che Dio avrà stabilito per loro quindi vedete abbiamo visto abbiamo visto anche che i servi devono stare sottomessi soggetti ai loro padroni adesso prendiamo in prima Corinzi capitolo 11 perché la donna in genere le donne in genere devono stare soggette all'uomo perché così è scritto è scritto questo capitolo 11 al versetto 3 ma io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio vedete Cristo ha un capo che è Dio Padre l'uomo ha un capo che è Cristo Gesù ma la donna il capo della donna è l'uomo perché così il Dio ha stabilito e così noi ci dobbiamo attenere ora questa autorità dell'uomo verso la donna la donna lo deve manifestare nella propria vita in modo particolare visibile che oggi viene contrastato moltissimo questa autorità dell'uomo verso la donna è rappresentato dal velo in testa cioè mentre l'uomo per lui è obbligatorio pregare senza avere il capo coperto per la donna invece è il contrario cioè la donna deve pregare con il capo coperto appunto perché deve avere un segno dell'autorità da cui dipende questa autorità è l'uomo quindi perché il capo della donna è l'uomo ora la donna per non disonorare il suo capo deve quando prega o profettizza deve portare sopra il proprio capo un velo deve avere il capo velato deve avere il capo coperto diciamo da un velo o comunque un capo coperto in questa maniera quando prega o profettizza con il capo coperto non disonora il suo capo anzi lo onora quindi riconosce l'uomo come il suo capo capite perché è molto contrastato soprattutto dalle donne il velo per questo motivo per il motivo che mettendosi il velo in testa una donna riconosce che il suo capo è l'uomo capite ed è per questo che le donne le donne ribelli perché qui stiamo parlando in questo caso delle donne che si oppongono a pregare che si oppongono ad usare il velo sul capo sono donne ribelli che si ma non è che si ribellano solo all'uomo si ribellano all'uomo come il loro capo ma si ribellano all'ordine che Dio ha stabilito perché quest'ordine che abbiamo appena letto non è che l'ha stabilito l'uomo l'uomo non ha stabilito un bel niente tutto è stato stabilito da Dio quindi se è Dio che ha stabilito che il capo della donna è l'uomo e che ci può fare non ci può fare niente l'uomo e non ci può fare niente la donna è stabilito così da Dio perché il Dio ha fatto l'uomo e lo conosce ha fatto la donna e la conosce ha fatto ogni cosa il Dio è il vasaio ha fatto i vasi come ha voluto lui con gli incarichi che ha voluto lui quindi la donna deve sapere deve sapere la donna che il suo capo è l'uomo è inutile che si ribella perché la ribellione non è verso un uomo ma la ribellione di una donna che non vuole pregare non vuole usare il velo non vuole coprirsi il capo per non riconoscere appunto l'uomo come il suo capo non si ribella all'uomo ma si ribella bensì a un comandamento di Dio e poi a suo tempo ne porterà la pena ne porterà la pena del suo traviamento della sua ribellione della sua condotta capite? è inutile che cercano di trovare sofismi e altre giustificazioni vanie è scritto così che la donna deve pregare che il capo della donna è l'uomo e per segno di questa autorità da cui dipende deve portare sul capo il velo quando prega o profetizza punto non ci sono discussioni da fare qui il comando è dato punto è fermo è nei secoli dei secoli fino a quando tutto non cesserà e ci sarà una nuova creazione le cose avverranno in questa maniera devono avvenire in questa maniera non vanno discussi i comandamenti di Dio i comandamenti di Dio vanno osservati e basta che ci mettiamo a discutere i comandamenti di Dio siamo giudici di Dio adesso perché se ci mettiamo a giudicare questo non dobbiamo giudicare i comandamenti di Dio quelli no che non li dobbiamo giudicare perché l'uomo spirituale giudica di ogni cosa ma quello che non dobbiamo giudicare sono i comandamenti di Dio non è che li possiamo giudicare noi ah questo comandamento è giusto questo invece è sbagliato cioè possiamo mai dire noi che siamo carne e polvere che un comandamento di Dio è sbagliato oppure cominciare ad annullare il comandamento dicendo ah ma questo valeva per quell'epoca e non vale più per oggi ma chi sei ma chi sei che giudichi i comandamenti di Dio chi sei tu uomo o donna che sei renderai conto a Dio a suo tempo renderai conto a Dio non ti preoccupare Dio è misericordioso e aspetta pazientemente ma a suo tempo ognuno avrà ciò che merita riceverà la retribuzione delle sue opere capite fratello ognuno riceverà quello che si merita e non si sfugge alla legge di Dio possiamo sfuggire alla legge umana ma non alle leggi divine a quelle non ci si sfugge nessuno sfugge ed ora ed ora volevo parlarvi anche attraverso le parole di Pietro anche che c'è scritto anche questo primo Pietro 5 a versetto 5 cioè in una comunità ci sono anziani e ci sono giovani quindi questa differenza di età è considerata anche dal Signore è considerata anche da Dio quindi questa differenza di età va considerata ora la scrittura cosa dice dice così prima Pietro 5 5 parimente voi più giovani siate soggetti agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi ma dà grazie agli umili umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo gettando su lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi vedete fratelli qui l'apostolo Pietro esorta i giovani a sottomettersi agli anziani anche qui c'è sempre la condizione nel Signore i giovani devono stare soggetti ai conduttori agli anziani al pastore ma certamente che devono stare soggetti però nel Signore e nella verità capite cioè non è che un giovane siccome è giovane deve stare soggetto al falso dottore al falso profeta al falso pastore agli anziani corrotti e sviati capite non è a quelli che bisogna obbedire ma qui i giovani devono stare soggetti obbedire a coloro che gli danno un buon esempio nel Signore nella parola di Dio a quei servitori bisogna stare assoggettati perché questo è importante è importante questo cioè considerarlo non è che il giovane indistintamente quello è più anziano di me obbedisco e basta no deve riflettere anche il giovane e deve parlare non è che deve stare zitto naturalmente attenzione deve fare ogni cosa nel Signore con saggezza e sapienza perché se il giovane è stolto è giovane è pure stolto e allora stai zitto non parlare proprio non ti fa sentire e il giovane deve deve essere soggetto a persone che gli danno un buon esempio nel Signore che gli danno un esempio biblico da seguire non che sono corrotti e sviati questi anziani e pretendono loro pretendono di essere obbediti dai giovani pretendono che il giovane stia zitto solo perché loro sono anziani no l'anzianità qui presuppone che ci sia una maggiore esperienza nel Signore che ci sia maggiore conoscenza del giovane spiritualmente parlando e biblicamente quindi in questo caso se c'è una conoscenza che il giovane poi deve io credo che se il giovane lo riconosce questa superiorità spirituale questa esperienza spirituale questa esperienza questa conoscenza biblica maggiore ma io credo che i giovani come a suo tempo non ho avuto problemi io a sottomettermi credo che neanche oggi i giovani dovunque essi si trovino non solo quelli che parlano che trattano con noi ma qualsiasi tipo di giovane che deve assoggettarsi agli anziani ma lo faccia volentieri se ha molte cose da imparare da quell'anziano da quel conduttore da quel ministro ma se quelli sono sviati conoscono meno parola di Dio del giovane hanno meno sapienza del giovane ma è chiaro che il giovane a quel punto che cos'ha da ricevere da questi se sono sviati dalla verità se non conoscono le scritture se hanno una condotta corrotta ma è chiaro che in questo caso il giovane per piacere a Dio per piacere a Dio non deve assolutamente seguire il cattivo esempio di questi anziani è chiaro questo quindi il giovane è chiamato a discernere il bene dal male a capire a conoscere quello che è scritto nella parola di Dio a capire qual è la condotta che deve tenere quindi che il Signore lo guiderà se è sincero se lo Spirito Santo abita in lui sarà guidato nella verità così come è anche scritto in ebrei adesso prendiamo anche il passo in ebrei per concludere concludiamo il passo in ebrei a capitolo 13 al versetto 17 qui diciamo questo è generico obbedienza ai conduttori è riferita a tutti quelli che sono condotti l'obbedienza ai conduttori deve essere riguarda tutti coloro che sono condotti da quella persona però sempre con i limiti che abbiamo già citato quindi 13 17 di ebrei ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro perché essi vegliano per le vostre anime come chi ha da renderne conto affinché facciano questo con allegrezza e non sospirando perché ciò non vi sarebbe di alcun utile ora qui lo scrittore agli ebrei esorta gli ebrei a sottomettersi esorta tutti i santi a sottomettersi a coloro che conducono ed è corretto così però naturalmente come abbiamo detto il conduttore deve essere un buon esempio in Cristo deve avere una conoscenza deve essere spiritualmente più elevato del giovane anche di tutti gli altri membri attenzione perché qui stiamo parlando non solo di giovani ma di membri in generale quindi deve essere un esempio da seguire il conduttore deve attenersi strettamente alla parola di Dio e alla sana dottrina ecco quando un conduttore si mantiene saldo sulla verità della parola di Dio ha una buona condotta una buona reputazione e altre caratteristiche che deve avere ma è chiaro che c'è piacere a sottomettersi a un conduttore in quella maniera perché ha tante cose da insegnarci contrariamente invece se questo è corrotto è sviato un falso dottore è uno che insegna falsità eresie ha una condotta scorretta è un adulto un fornicatore un amante del denaro in questo caso no in questo caso non si può seguire se no seguendolo diventiamo come lui e non dobbiamo diventare corrotti come sono corrotti certi conduttori noi dobbiamo santificarci guardate bene e quando trovate un servitore di Dio quindi un conduttore che è secondo il cuore di Dio che di cui veramente uno fa piacere sottomettersi bisogna obbedirgli perché qui dice vedete essi vegliano per le anime vostre quindi il lavoro che fa il conduttore lo fa per le anime lo fa per le pecore il lavoro che fanno certi ministri che voi conoscete bene ma lo fanno per il nostro bene non è che lo fanno per loro stessi hanno sacrificato tutta la loro vita tutte le loro gioie tutte le loro gioie mondane che potevano avere la loro gloria mondana per servire a Cristo per servire ai figlioli di Dio quindi è cosa anche giusta che questi figlioli di Dio che vengono ammaestrati guidati nella via della verità si sottomettano a queste persone e li tengono in grande considerazione e li amino e preghino di continuo per loro è giusto fratelli è una cosa giusta perché se non c'è un contraccambio in qualche maniera cosa succede? succede affinché vedete dice affinché facciano questo con allegrezza e non sospirando ma se i fratelli no? che vengono ammaestrati da questi conduttori che sono diciamo secondo il cuore di Dio prendiamo i conduttori che sono servi veri servi di Dio se i i credenti i membri di quel gruppo di quella comunità non seguono gli ordinamenti non seguono le esortazioni la parola i comandamenti che vengono insegnati da quel conduttore questo comincia a sospirare a faticare cioè fa il lavoro in maniera pesante e la causa di questo è appunto la mancanza di rispetto e di sottomissione da parte dei membri che sono condotti nella via della verità quindi non bisogna appesantire il conduttore anzi bisogna collaborare obbedire farsi trovare servizievoli no? col conduttore in maniera che sia liberato il più possibile di tanti lavori che si troverebbe a fare se nessuno lo aiuta è in maniera che lui si concentri alle cose più importanti del suo ministerio del suo ufficio che di cui è incaricato perché guardate bene se un conduttore deve aprire i locali di culto pulire per terra pulire le sedie sistemare tutto pitturare cioè se deve fare tutto lui capite dopo sarà stanco non riuscirà non ha il tempo non ce la farà poi a fare che cosa a quello che è più importante cioè a dedicarsi alla predicazione alla visita ai fratelli alla consolazione dei fratelli e altre cose alla preghiera capite e quindi se tutto per lui diventa pesante ecco quindi che fa le cose sforzatamente non sente un contraccambio si sente solo abbandonato e questo non deve essere fratelli noi dobbiamo essere collaboratori dei servi di Dio di che cosa hanno bisogno bisogna subito farsi operatori agire agire in base all'esigenza adesso noi non abbiamo impellenza perché ognuno di noi magari qualcuno di noi quasi tutti non vanno in una comunità però verrà il momento in cui in cui andremo in una comunità e queste cose vanno si devono sapere per poter poi essere messe in pratica si devono poi mettere in pratica quindi fratelli fratelli e sorelle queste oggi per oggi questa era l'esortazione che ho voluto che sentivo in cuore di darvi ciascuno secondo la posizione che occupa quindi deve sapere a chi deve essere soggetto e perché deve essere soggetto è quello che deve fare quindi ognuno individui bene qual è la sua posizione all'interno della famiglia all'interno della società nel lavoro davanti ai magistrati le autorità quello che è e si attenga a quello che vuole il signore perché lo ha stabilito il signore anche all'interno di un gruppo religioso di un gruppo di una comunità cristiana qual è la tua posizione quella mantieni e quella diciamo assolvi a tutti i tuoi doveri che riguardano la tua posizione esaminate voi stessi esaminiamo tutti noi sempre noi stessi per vedere qual è sempre la nostra posizione davanti a Dio affinché non siamo trovati mancanti di nulla ma mettiamo in atto ogni cosa che piace al Signore questa era l'esortazione che ho voluto darvi è addio addio sia tutta la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli